E adesso? Esamina il carico. Cerca eventuali segni distintivi sulle casse. Le casse che ci interessano hanno il contrassegno della compagnia. Cerca il contrassegno. È stampato in rosso. Dobbiamo trovarne una che sia aggiungibile. Contrassegno corretto, ma troppo in alto. Facciamo presto. È meglio non farsi trovare qui. Qui deve essere quello che stiamo cercando. Aiutami a metterla giù. Piede di porco. Guarda, cavaliere. Osserva il male che entrambi combattiamo. Vampiri? Non può essere. Come? I mezzosangue consolidano il loro potere. Protetti dai Lycan nella tua terra. Hastings e la sua stirpe stanno diffondendo il loro flagello all'interno. Hastings non può essere uno di loro. Molti a Whitechapel hanno visto il tuo nobile signore vagare per le strade a notte fonda a caccia di giovani donne. Le vittime dello squartatore. Voi lo chiamate così? Come credi che l'assassino continui a eludere le ricerche del commissario Doe, il cavaliere? Whitechapel è il terreno di caccia per i suoi simili. Quanti altri ce ne sono? Abbastanza per infettare una città. Sangue di Dio. Dobbiamo distruggere il carico. Di qua, ho trovato del carburante. Le darò fuoco. Preparane un'altra. Questa è pronta. Fatto. Qua giù. Aiutami a salire lassù. D'accordo. Cerco qualcosa per aiutarti. C'è una scala qui. Un'altra tannica di carburante. Bene, questa è pronta per essere accesa. Ora possiamo andare avanti. Molto bene. Vai, spensa al resto del carico. Io a questo lotto. la cosa. E' un'altra tannica di carburante. E' un'altra tannica di carburante. Questo tannica di carburante. Questo tannica di carburante è un'altra tannica. Perfetto, la notte è sistemata. Cavalieri, armi in mano! Cavalieri, punto per tura! Guardia neutralizzata! Guardia neutralizzata! Guardia neutralizzata! Altre casse sono cedute. Dobbiamo scendere. No! Non farli avvicinare mentre do fuoco alle casse! Diavolo! Guardia neutralizzata! Quest'aria è a posto. Passo alla successiva. Mi sto avvicinando. Andate la trattata via vicino. Mandatela giù e fermatevi. Bersaglio eliminato! Mi sto avvicinando. Tenete impegnati. Quanto attiro. Cavaliere, arrivano! Buono a terra! Buono a terra! Tu coño! Corazio è inutile! Siamo sottotitoli! No! Ecco la scena. Go! Calma si. Vado si. Perciò la scena! E' ogni volta. Non si è poco. Mi sono ancora! E' un'altra scena. An eggos! Fu! La scena! Precisa! Che! Si! Qua! Sono bruciato dal fuoco, nemico! Resta al riparo! Sto avvicinando! Regaliamo! Ti muovo io! Guardia neutralizzata! Sto avvanzando! Guarda attenzione! Questa è l'ultima! È chiusa! Laika! Guarda! Guarda! Sì, sì. 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 Sì, sì.